La San Cataldese perde la terza partita di fila in casa, stavolta passa alla Cireale con un gol di scarto, siglato da Limonelli al diciassettesimo del secondo tempo. Ora i Verde Amaranto sono penultimi in classifica dopo l'esaltante avvio di stagione in Coppa Italia contro il Catania. L'ennesima domenica amara al Valentino Mazzola che il tecnico Matteo Vullo commenta così sulla pagina Facebook del club. Nell'unica vera palla-gol della Cireale noi abbiamo subito il gol che poi ha determinato la sconfitta. Tra l'altro da una palla nostra sbagliata in uscita, purtroppo il rammarico è quello lì perché la palla era nostra recuperata e abbiamo sbagliato l'uscita da dietro. Sono stati bravi loro a rimetterla subito sul secondo palo dove in quel momento ci mancava un'altra di centrale e il terzino stretto e poi Carbonaro fa un gran gol e va così purtroppo in questo momento. I risultati del campionato di serie D. Girone I. Catania, Castrovillari 4 a 0. Trapani, Cittanova 1 a 1. Licata, Locri 1 a 1. Santa Maria, Canicattì 2 a 1. Ragusa, Sant'Agata 1 a 0. Real Aversa, Lamezia 0 a 2. San Luca, Paternò 1 a 1. San Cataldese, Cireale 0 a 1. Vibbonese, Mariglianese 1 a 0. La classifica, Catania e Lamezia 15, Real Aversa e Vibbonese 10, Ragusa 8, Locri 7, Sant'Agata e Canicattì 6, Trapani 5, Paternò, Cittanova, Santa Maria e Castrovillari 4, San Luca, Mariglianese e San Cataldese 3, Licata 2. Terza sconfitta stagionale per la Nissa, l'ennesima fuori dalle Murami che ad opera della Profavara. Una battuta d'arresto che fa scivolare i biancoscudati in zona play-out dopo 5 giornate di campionato. Favaresi in vantaggio dopo 18 minuti con De Luca. Nel finale del primo tempo, due gol al 36esimo. La Nissa pareggia i conti con Ortiz che trasforma un calcio di rigore. L'1 a 1 dura una manciata di minuti, al 44esimo il secondo gol dei padroni di casa, ancora con De Luca, autore di una doppietta. Il primo tempo si chiude 2 a 1 per la Profavara che al 35esimo della ripresa segna il Tris con Dembélé. La partita finisce lì con l'esultanza dei favaresi e la profonda delusione dei nisseni. I risultati del campionato di eccellenza girone A. Cus Palermo, Don Carlo 0 a 4. Castellammare, Leonfortese 6 a 2. Parmonval, Casteldaccia 0 a 4. Acragas, Oratorio Marineo 3 a 0. Enna, Sciacca 3 a 1. Gela, Resuttana 1 a 1. Profavara, Nissa 3 a 1. Mazzarese, Mazzara 2 a 2. La classifica. Acragas, Sedenna 13 punti. Sciacca 12, Don Carlo 11, Casteldaccia 10. Mazzarese e Profavara 9. Mazzara 8. Cus Palermo e Castellammare 6. Nisse e Parmonval 4. Gela e Oratorio Marineo 2. Resuttana, Leonfortese 1.